ragazzi buonasera se volete sostenere il canale lo potete fare gratis ebbene sì basta un clic che iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina è tutto gratis così avrete sostenuto il canale degli esonerati di giuse 10 a parte questo io diciamo ho avuto da fare nelle ultime ore ma sento parecchi tifosi li sento molto positivi sul fatto ci sia capitato l'Atletico Madrid io non sono così euforico sinceramente a parte secondo me ci deve essere sempre un presupposto da cui partire quando giochi a questi livelli ovvero sia rispetto di tutti e paura di nessuno ma come si fa a essere contenti per aver beccato l'Atletico Madrid sinceramente io non lo so stimo chi già sta stappando le bottiglie io non stappo proprio nulla ci poteva capitare di peggio sì è come dire va bene ho preso una manata mi poteva capitare di prendere una pedata che discorsi sono che discorsi sono l'Atletico Madrid è una squadra tosta una squadra d'acciaio a livello difensivo non sto dicendo che è imbattibile eh chiariamo subito questo è una squadra difficilissima da incontrare e per assurdo per come gioca l'Inter è una squadra rognosa da affrontare proprio per quello perché sono quelle squadre non concedono tanto spazio e solo le squadre ci mettono più in difficoltà per assurdo per tipologia di gioco del Barcellona prendo il Barcellona per esempio avremmo avuto meno difficoltà nel sviluppare il gioco quando noi andiamo a incontrare squadre come l'Atletico Madrid purtroppo andiamo in difficoltà qualcuno ha detto è come la Juve no non è come la Juve lascia perdere i cinesi non c'entra nulla l'Atletico Madrid non è come la Juve l'Atletico Madrid è una Juve quattro volte più forte con un alleatore tre volte più forte rispetto agli anni passati tra l'altro gli spagnoli giocano molto di più a calcio c'è sempre diciamo l'idolo di parcheggiare il Pullman ma sviluppano molto più calcio rispetto a due anni fa diciamo che sì che Simeone sia un po' evoluto è una squadra che ha grinta e arrabbia che gioca con la bava alla bocca e non molla mai sono dei rompi coglioni fidati e tra l'altro hanno Griezmann che non è più quel Griezmann che sembrava uno spaventa passerì a giro per il campo a giro fermo nel campo scusami Griezmann è il loro temporizzatore viene giù gioca da una mano al centro campo tre quarti e poi si inserisce in aria quando si inserisce in aria è un casino perché è tornato a fare gol è tornato ad essere il Griezmann che era due tre anni fa Morata lo sapete quest'estate l'ho sempre detto il mio centravanti preferito da prendere la Morata è anche vero che accanto ad Alvaro Morata qualsiasi attaccante gioca bene perché Alvaro è talmente intelligente talmente bravo tatticamente è un attaccante atipico si salifica tanto e tutti i suoi compagni di reparto giocano meglio con lui ed è uno che la butta dentro tre ma Morata fa pochi gol guarda quest'estate sentivo dire eh Giuseppe ha Morata fa pochi gol guarda quanti gol ha fatto Morata fino a ora ma di cosa ragioni ma di cosa stai ragionando voglio capire io è una squadra l'Atletico Madrid ripeto non è imbattibile non sto dicendo questo ma quando li incontri a livello fisico ti prosciuga una squadra come quella ti prosciugano ti prosciugano fisicamente perché vanno a mille sono cattivi picchiano garra bava alla bocca rispecchiano totalmente il carattere del loro allenatore quindi conterà tantissimo la condizione fisica quando le incontreremo bisognerà vedere a che livello siamo purtroppo purtroppo e speriamo che quest'anno questa cosa non avvenga perché purtroppo tutti gli anni era sempre la stessa musica purtroppo le squadre di Nizaghi subiscono un calo dal febbraio in poi speriamo che quest'anno abbiano fatto una preparazione diversa che l'Inter si sia preparata in maniera diversa perché comunque a livello fisico stiamo andando a mille ragazzi eh indipendentemente dal fatto che abbiamo imparato ad usare l'acceleratore abbiamo imparato a soffrire cosa non sapevamo fare l'anno scorso e questo è molto importante per risparmiare le energie perché siamo 15 giocatori contati 16 non siamo di più la Rosal è quella Sanchez non gioca nemmeno la prossima era una contratturina ora non è più una contratturina lo capisci che siamo contati bisogna risparmiare le energie perché le squadre capito che hanno il baricentro basso che ti giocano un contropiede cioè noi le soffriamo queste squadre qui per assurdo giochiamo meglio contro il Manchester City quale strada l'anno scorso una squadra che abbiamo non sofferto ma che ci ha dato noia il Porto per esempio noi segniamo loro rimangono in dieci ma avevano preso due tre pali anche noi avevamo avevamo fatto il nostro ci mancherebbe ma stavamo durando un po' di fatia perché quella tipologia di squadra per come giochiamo noi ci mettono in fiolta anche perché non abbiamo gente di numeri dieci che si inventano e che salta all'uomo tranne Ticus Duram a cui va tolta la clausola Giuseppe ma la clausola dipende dal giocatore io ti faccio un esempio Duram 90 milioni di clausola ti faccio un esempio così magari arriva il Manchester City ho preso una squadra a caso eh Bayern Manchester a parte Bayern lo voleva Paris Saint Germain lo voleva quanto prendi l'ingaggio sei te le diamo dodici paghiamo la clausola cosa fai e quando ti hai una clausola comunque sei costretto a parlare con chi la vuole pagare è meglio evitare certe situazioni io non so chi l'ha pretesa questa clausola se il calciatore Lilian Turam il padre procuratore non lo so chi l'ha pretesa ma se io fossi nell'Inter la toglierai il prima possibile perché questo giocatore qui Ticus Turam quando Giuseppe diceva prendiamo lui fortunato e lasciamo il ballerino alla Lazio la gente si metteva a ridere ora non ridi più però eh ora non ridi più se questo ragazzo non ti dico se fa ancora meglio a parte lo vedo e tattivamente cresce partita dopo partita no ma nei movimenti si vede come per come ti dà la profondità per come la chiama la profondità per come svaria in tutto il campo per come dà una mano all'autaro io non ti dico se fa meglio del girone d'andata ma se putacaso questo si ripete e rifà le stesse prestazioni non non migliori di girone d'andata questo attira tanta tante squadre ed è pericoloso quindi fatemi un piacere togliete la clausola ciao Inter ciao ho Grazie a tutti.